ciao a tutti oggi prepareremo la panna cotta al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 4 ore di raffreddamento in frigo ingredienti sono per la panna cotta panna fresca granella di pistacchi crema di pistacchi che noi abbiamo preparato col bimbi zucchero e colla di pesce ammollata in acqua fredda per la salsa al cioccolato cioccolato bianco crema al pistacchio e panna fresca siamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la crema di pistacchi la panna fresca e lo zucchero semolato chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti a 80 gradi velocità 3 aggiungiamo i fogli di colla di pesce ben strizzati facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3 trasferiamo il composto in degli stampini e posizioniamo lì in frigo per almeno quattro ore trascorse le quattro ore la panna cotta è pronta adesso le metteremo momentaneamente da parte andremo a preparare la salsa al cioccolato mettiamo all'interno del boccale il cioccolato la panna e la crema di pistacchi o nutella di pistacchi che noi abbiamo preparato col bimbi e azioniamo il bimbi per quattro minuti a 60 gradi velocità 3 la salsa al cioccolato è pronta serviamola subito versandola sopra la panna cotta e guarniamo con granella di pistacchi panna cotta al pistacchio grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti